Io, benissimo, prima di ricevere l'ordine del Perniterale, desvalificare la volontà di insomma e di un figlio. Vuoi esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale del grado di Perniterale, come fedele cooperatore dell'ordine dei Veschi, nel servizio del popolo di Dio, sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Voi avete teniamente e sapientemente il ministero della parola, nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento del figlio cattolico? Sì, lo voglio. Vuoi celebrare con demozione e fedeltà i misteri di Cristo, secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi, insieme con noi, implorare la divina misericordia per il popolo a te affidarti, dedicandoti e sicuramente alla parola di Dio, come ha governato il Signore? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre più strattamente unito a Cristo, sommo sacerdote, che come l'ultima cura si è offerto al Padre per noi, consacrando a te stesso e a Dio insieme con noi, per la salvezza di quei uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me, ai miei successori, di viale rispetto e di obbedienza? Sì, con l'aiuto di Dio. Sì, con l'aiuto di Dio. Dio che inizia a diventare la sua opera, la porta, la porta, la porta, la porta. Sì, con l'aiuto di Dio.